Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano restano in carcere per l'omicidio di Sara Scazzi. Il Tribunale del Riesame l'ha deciso ieri sera alle 19, dopo nove ore di Camera di Consiglio, depositando in cancelleria soltanto il dispositivo con cui viene rigettato il ricorso del Collegio di Difesa, mentre le motivazioni si conosceranno nei prossimi giorni. Appare del tutto evidente che la nuova ricostruzione dell'omicidio riportata nell'ordinanza impugnata dei difensori e le testimonianze portate dall'accusa abbiano svolto un ruolo determinante nella decisione di respingere il ricorso. I giudici del Riesame, De Tomasi, De Michele e Roberto, hanno condiviso la tesi dei pubblici ministeri Pietro Argentino e Mariano Buccoliero che ritengono le due donne complici del delitto. Sabrina, come autrice materiale, e la mamma accusata di concorso morale, le due poi hanno convinto Michele Misseri, oggi libero ma con l'obbligo della firma, a nascondere il corpo della nipote quindicenne nel pozzo dove poi fu ritrovato 42 giorni dopo. Oggi intanto è prevista l'udienza del Riesame che esaminerà il ricorso della Procura contro la decisione del GIP Martino Rosati di aver escluso l'ipotesi del sequestro di persona a carico di Cosima Serrano.